Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Sono troppo felice! Troppo felice! Come vedete ci troviamo in questa stanza meravigliosa Che Louis ha allestito per il mio compleanno Infatti il 14 maggio è il mio compleanno E Louis ha pensato di festeggiare per un'intera settimana E oggi per me è il giorno più bello! Ovvero il giorno in cui aprirò i miei regali Ma perché si fosse perso il video dove facciamo il tour di questa stanza meravigliosa? Guardate qui! C'è il mio nome scritto con i led Ed, Sofì, e poi c'è un cielo pieno di palloncini E aspettate, siamo proprio sopra il cielo Perché sotto di noi ci sono le nuvole E poi c'è un arcobaleno pieno di nuvole colorate E il mio unicorno, come stai? Buongiorno, sei felice che oggi apriamo i regali? Io felicissima, vengo subito da quella parte Ehi, arrivo, arrivo Qui ci sono tutti i miei regali, guardate quanti sono Contiamoli, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Ben dieci regali, tutti da spacchettare Tutti questi regali sono stati fatti da lui Che carino, che dolce, è proprio un principe Da quale inizio davvero l'imbarazzo della scelta? Devo iniziare da quelli grandi o quelli figli? Spera, aspera, aspera, che sta succedendo qui? Sto spacchettando i regali Ah, no, 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 Sofì, c'è un piccolo errore Questi regali non sono tutti tuoi Eh? Ehm, sì, dammi un attimo che ti spiego Scusa, non mi è chiara la situazione Questi qui sono dieci regali per me? Cioè tu li hai messi qui in questa stanza per il mio compleanno Perché io li spacchettassi solo dieci Tra i più grandi ai più piccoli Con varie forme e dimensioni Vari pesi e varie carte regalo Tutti da spacchettare Ovviamente, ehm, noi siamo i me contro te E quindi ogni giorno è speciale Ed è una festa, è un divertimento E quindi anche il giorno dello spacchettamento dei tuoi regali Non poteva essere un semplice giorno qualunque Così ho pensato bene di trasformare Questa giornata in una sorta di challenge Ovvero, ho preparato sì dieci pacchi regalo per Sofì Ma lei ne potrà selezionare soltanto cinque C-c-c-c-cosa? Quindi di questi dieci regali io devo sceglierne soltanto cinque È la metà? Sì, e non hai sentito ancora la parte più bella Di questi dieci regali Cinque sono bellissimi e tu li adorerai Mentre altri cinque sono una schivezza Sono delle cose bruttissime che non ti piaceranno affatto Quindi sarai fortunata e prenderai cinque regali giusti? O prenderai regali sbagliati? Oh no, 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 no Ansia, adrenalina Ragazzi avete capito? Qui davanti a me ci sono dieci regali Di cui cinque sono belli e cinque sono brutti E quindi sarà a me scegliere proprio quelli belli Ma come faccio a sceglierli se vedo soltanto la carta regalo? Non so mica cosa c'è dentro Sarà una scelta difficilissima Ovviamente io ho impacchettato tutti i regali alla perfezione In modo da farli sembrare tutti uguali Ma il loro contenuto non è affatto per niente uguale Credetemi Ecco, lo sapevo, lo sapevo Che dietro a tutto questo ci stava uno scherzo Lo sapevo sin dall'inizio Infatti non so se vi ricordate Ma io pensavo che questa stanza non esistesse Che fosse tutto uno scherzo Non è stato così Ma ecco qui che lo scherzo c'è Con i regali Luì, sei un coccodè prevedibile Sì, ok Ma io direi adesso di non perdere altro tempo E iniziare a fare la scelta dei regali Saluto delle trote Per le regole del gioco Dovrei mettere da questo lato I cinque regali che vuoi Mentre da questo lato I cinque regali che non vuoi Aiuto Spero di fare la scelta giusta Inizierei subito dal primo regalo Questa scatola qui Devo vedere un po' Secondo me cosa contiene Questa scatola Contiene qualcosa che fa rumore Già Sentite Come qualcosa di ferro Ed è molto molto leggera Secondo me qui dentro Non c'è niente di buono Poi guardate la scatola regalo Di questo colore Cacchetta Ma come cacchetta? No, no, no Questo qui non lo voglio Non lo voglio Lo metto dalla parte del no Io ovviamente non so cosa c'è dentro Spero di fare la scelta giusta Ma questo no Ok, continua Allora prendi il prossimo regalo Questo pacco invece è pesante Qui dentro ci potrebbe essere qualcosa di molto bello Come per esempio una borsetta O una cintura O una cintura O un accessorio Per vestirmi, no? Quindi lo metto nella parte dei siti Sì, lo voglio Guarda però Sofì Se io fossi in te Non mi farei troppo condizionare dal peso Perché sai Ci sono degli oggetti piccolini Che pesano poco Ma che hanno un grande valore Però magari ci possono essere Gli scatoloni Che dentro hanno pochissimo Sì, sì, sì Ma non sta a te la scelta Tocca a me E quindi? È solo mia la decisione Ok Prendo il prossimo regalo Il regalo è questo Guardate che incarto buffo Secondo me Qui dentro c'è qualcosa di prezioso È una scatolina piccolina Una sfera Magari dentro c'è un gioiello Questo qui lo tengo Guardate È a forma di caramella Lo metto nella parte dei siti Ok Posizionalo pure lì E adesso rimangono tutti questi altri regali Questa scatola È leggerissima Dentro pare che ci sia qualcosa di rotto Lei no No, no Sicuro non c'è qualcosa di rotto Ma lo sentite il rumore? No Ok, va bene Ma ti assicuro che non c'è nulla di rotto Se senti questi rumori strani È perché magari dentro si muove qualcosa Poi scegli tu Vedremo Intanto ho in mano quest'altra scatola Che ha un involucro rosa poire Che mi piace molto E che è molto piena Molto pesante E quindi qua dentro Non c'è niente di rotto E la scelgo Questo qui è il mio terzo regalo scelto Lo metto qui Dopodiché Andremo a vedere questa scatolina Questa forma mi ricorda molto il cofanetto di un trucco O di un gioiello Quindi io la vado a mettere dalla parte dei sì Assolutamente Fa un rumore molto particolare Ci saranno degli orecchini Sì 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 ho capito tutto Ho degli orecchini Ho una collana con un bel pendolo Quindi ne ho già scelti quattro Manca l'ultimo regalo Questa qui sembra una scatola vuota Questa qui sembra una scatola vuota Ma non sono scatole vuote Questa qui sembra che ci sia un mattone E questa qui sembra che ci sia qualcosa di rotto Rimangono queste ultime quattro scatole Non so proprio cosa scegliere Ne puoi selezionare soltanto una Cavolo Scelgo Questa qua Sì qualcosa di rotto Va bene E' mezzo dalla parte dei sì E quindi Tutti questi altri vanno dalla parte dei no Sì e no Avrò fatto la scelta giusta? Chi lo sa? Lo stiamo però andare a scoprire Sinceramente stavo notando Che hai selezionato i pacchi più piccoli Lasciando da questa parte del no Quelli più grandi Perché secondo me Nei pacchettini più piccoli Ci stanno le cose più belle Come appunto I gioielli I trucchi Sono piccolini E quindi qui potrebbero esserci cose Che potranno piacermi tantissimo Però adesso Procedendo con la sfida Io andrei ad aprire i regali Che non ho scelto Per vedere se ho rifiutato Delle cose belle oppure no Però tanto di sì Partiamo subito col primo Questa scatola secondo me è vuota Secondo me non c'è niente dentro Scarta la carta Scarta la carta Scarta la carta Scarta Mi stavi regalando un cestino rosa Già Un inutile cestino rosa Dove poter mettere i trucchi Però pensa al lato positivo Sei stata fortunata Perché l'hai scartato Meno male Mettiamolo da parte Ma come l'hai buttato Sì andiamo avanti Vediamo il secondo regalo Che ho scartato Questo qui Che è molto pesante Devo dire Spero tanto non ci sia niente di bello Potrebbe essere un libro Non so Vedremo Un libro gigante Perché è molto grande Eh? Di che si tratta? Non ci posso credere ragazzi Spero tanto non sia così No 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 Nooo È proprio quello Ragazzi è lo specchio che volevo E' uno specchio con le luci che si illumina Ed è bellissimo E io non l'ho scelto No Mi dispiace tanto Sofì Ma questo torna a casa con me L'hai scartato? Io lo volevo tantissimo Andiamo avanti La mia più grande delusione Speriamo che non ci sia un'altra delusione con la prossima scatola Apriamola Questa qui è quella che ho scartato per prima Quella che aveva un colore bruttissimo Ma soprattutto fa un rumore particolare Molto strano Non capisco proprio cosa ci sia dentro Apriamo questa scatola Ma sei serio? Una chiave inglese? Cosa devo fare con questa? Aprire rubinetti? Non sono mica un idraulico Ma Sofì non ti devi arrabbiare Anzi devi essere felice Perché hai scartato anche questo oggetto Devo ammettere che sei super fortunata Stai scartando tutte le cose più inutili Ho un fiuto davvero impeccabile Ma continui a scartare Perché ancora ci sono due pacchi Che potrebbero contenere qualcosa di molto bello E ora quest'altra Ok Scarta la carta Anche questa mi sembra vuota Ma non è vuota Impossibile Una mascherina Una mascherina per il virus Molto divertente Peccato che io già ne ho un milione di mascherine Meno male che non l'ho scelta Sono veramente fortunata Non ho scelto questo regalo Sì Ragazzi sinceramente devo ammettere che Sofì ha veramente un fiuto per i regali Ma come ha fatto? C'erano tutti i pagatati uguali Lei è riuscita a fiutare dove ci potevano essere delle cose inutili E adesso l'ultimo pacco regalo che ho scartato Vediamo un po' Questa scatola è molto particolare Perché fa un rumore come dicevo di cose rotte E lui dice che non c'è niente di rotto Quindi vediamo Dai apri 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 Nooo Ragazzi non ci posso credere Questa qui è una coroncina incantevole Come mi sta? Ti sta benissimo E peccato che l'ho scartata E non me la posso portare a casa Quindi mi dispiace coroncina ma ci dobbiamo salutare È stato un piacere per me conoscerti Sei bellissima Quindi ragazzi possiamo passare adesso ai regali che invece Sofì ha selezionato Ehi ma quella lì non te la puoi mettere tu Guarda che questa l'hai scartata Quindi torna a casa con me Dovrei aprire i regali che hai scelto Sarei stata fortunata? Spero tanto di sì Sono tutti questi i miei tesori I miei tesori Partirei dai regali più piccoli per arrivare poi a quelli più grandi Quindi iniziamo da questa qui Che mi incuriosisce tantissimo Cosa ci sarà qui dentro? Sembra una caramella Vediamo Scarta 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 Un'arancia? Buon compleanno Sofì Auguri questo è il tuo primo regalo Ma mi rendete cosa? Cosa ci faccio con questa? Un'aranciata? Ti puoi fare una bellissima spremuta Oppure te la puoi mangiare Devo dire che le arancie mi piacciono Quindi non sono arrabbiata anche se tu volevi farmi arrabbiare Però il primo regalo è un frutto Andiamo avanti con quest'altro pacchettino Che è il secondo più piccolo Cosa ci sarà qui dentro? Apriamo apriamo Togliamo il fiocchetto Scarta la carta Scarta la carta Magari ci sono dei gioielli Ci può essere un anello Ci può essere una collanina Speriamo 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 E' un pacchettino Però non mi pare che ci sia un gioiello qui dentro Cosa c'è? Eh? Ma ma Un bicchiere portatile Hai capito bene? Un bicchiere che puoi portare sempre con te Che puoi richiudere e portare in tasca Ma che schifo Che schifo di regalo è? Mi hai regalato un bicchiere Sembra il bicchiere per le urine Ma come un bicchiere per la pipì? Vi ricordate quando il re era piccolo E gli abbiamo fatto fare l'esame della pipì? L'avevamo messo in un bicchierino tipo questo Ma questo bicchierino è bellissimo Fa schifo E io ovviamente l'ho scelto Povera illusa Pensavo ci fosse un gioiello Quasi quasi preferivo la chiave inglese Continuiamo Rimangono gli ultimi tre regali Speriamo bene Apro questo qui Che è il più pesante Chissà cosa c'è dentro Adesso cosa ci trovo? Vei sassi? No 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 Prova ad aprire e lo scoprirai Eh? Di che si tratta? Una valigetta di Frozen Questa forse un po' mi piace Apriamo Wow Ci sono tutti i trucchi Tutti i glitter Tutto di tutto È meraviglioso Ti è piaciuta la sorpresa? Sì 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 Ci sono un sacco di ombretti Un sacco di smalti È stupenda Questo regalo mi piace molto Dai Almeno un regalo buono c'è Adesso apriamo questo pacco Che fa un rumore strano Ritorna questa scatola blu Che di solito Non porta nulla di buono Dai apri apri Ci sarà qualcosa di bellissimo Sì Guardate C'è una borsetta unicorno Tutta glitterata Che sta benissimo con questa stanza La adoro Questo qui è un regalo meraviglioso E sono felicissima di averla trovata E adesso rimane l'ultimo regalo La nostra Sufisa è stata fortunata O sfortunata Secondo voi? Questo pacchettino è molto strano Perché nonostante sia di dimensioni molto piccole È pesante Quindi o c'è veramente un sasso Oppure ci potrebbe essere qualcosa di bello Chi lo sa? Spacchettiamolo Dai scarta la carta Scarta la carta Scarta la carta Ma cosa ci sarà? Eh? No 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 Non ci posso credere C'è il Nintendo Switch È bellissimo Ed è rosa Sono sola fortunatissima Altro che Questa si è che si chiama fortuna Hai beccato il regalo più grande di tutti Ed è rosa È bellissimo lui Grazie mille Dopotutto devo dire che non sono stata affatto sfortunata Anzi ho ricevuto dei bei regali A parte l'arancia e il bicchiere Che è poco utile ed è verde Per il resto sono stata molto molto fortunata Ma comunque ragazzi Speriamo che oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso E ora cliccate davanti a lui per vedere i video di ieri Mentre davanti a sui video per vedere un altro video divertentissimo Noi vi mandiamo un bacione gigantesco Ci vediamo domani con una nuovissima avventura Ciao